Eccomi come promesso ad affrontare insomma gli esercizi, ancora una piccola premessa che ci può sicuramente aiutare. Allora, se ho un logaritmo con la stessa base e l'argomento ad esempio è b per c, mettiamolo tra parentesi, lo posso scrivere come somma. Logaritmo in base a di b più logaritmo in base a di c, perché poi insomma vedremo degli esercizi dove utilizzerò queste formule e anticipo insomma, aumentiamo poco poco lo spessore, vediamo se va meglio. Io anticipo qualche cosa, possiamo avere il logaritmo in base a di b elevato alla c e l'esponente semplicemente si può inserire prima del logaritmo, quindi c è uguale a c logaritmo in base a di b e ancora il logaritmo in base a di un'espressione fratta, quindi b al numeratore e c al denominatore, può essere vista come una differenza tra il logaritmo in base a di b meno il logaritmo sempre in base a di c. Ok, passiamo qua. Questo esempio è un mezzo del logaritmo naturale di 64 meno logaritmo naturale di 2 più logaritmo naturale di 3, quanto fa? Allora questo un mezzo significa ln di 64 elevato a un mezzo, quindi bisogna fare la radice quadrata. Quindi radice quadrata, tutta questa espressione qui sopra è uguale al logaritmo della radice quadrata di 64 che è 8, meno logaritmo naturale di 2 più logaritmo naturale di 3. Quindi abbiamo detto già che questo è 8 meno logaritmo naturale di 2 più logaritmo naturale di 3. Attenzione, il logaritmo naturale ha per base e, quindi sarebbe log di e, quindi abbiamo qui una differenza, quindi 8 fratto 2 per questa proprietà qui è 4, quindi tutto questo si può riscrivere come logaritmo di 4 meno logaritmo naturale di 3. Logaritmo naturale di 4 meno logaritmo naturale di 3 o, se preferite, logaritmo naturale di 4 terzi. Benissimo. Scusateci, ho un errore, qui c'è il più, me ne sono accorto subito prima che tutti mi dicessero hai sbagliato, capita anche a me, ho confuso questo più. Quindi diventa 4 per 3, 12. A questo punto nessuno mi dirà niente. Spero, insomma, che sia tutto giusto, spero che si veda bene la lavagna e andiamo avanti. Facciamo qualche esercizio, questo era un esercizio solo per scaldarci. Facciamo qualche esercizio. Grazie. Ok, si voglia risolvere il logaritmo in base a 2 di x quadro meno 4x più 4 uguale a 0. Allora sappiamo che in realtà per definizione di logaritmo tutto questo si può riscrivere come x quadro meno 4x più 4 uguale 2 elevato a 0. Ma 2 elevato a 0 è 1, 1 lo porto da questa parte, gli cambio il segno e quindi diventa x quadro meno 4x più 3 uguale a 0. Giusto per ricordare, potremmo applicare anche il trinomio caratteristico, applichiamolo, applichiamo la soluzione di un'equazione di secondo grado. giusto per ricordare qualche formuletta perché poi magari mi dite che salto troppi passaggi e andando a sostituire valori dei coefficienti a, b, c rispettivamente del termine x al quadrato, del termine x lineare e del termine noto potete semplicemente notare che x1 è uguale a 1 e x2 uguale a 3. Queste sono le soluzioni dell'esercizio proposto. Grazie 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 a tutti. Ok? Allora abbiamo il logaritmo in base 4 di x più il logaritmo in base 4 di 2 meno x uguale al logaritmo in base 4 di 2x meno 1. Qui dobbiamo sicuramente porre le condizioni di esistenza per cui l'argomento del logaritmo deve essere maggiore strettamente di 0. Quindi in questo caso x maggiore di 0, 2 meno x deve essere maggiore di 0 e 2x meno 1 maggiore di 0. Tutto questo deve essere contemporaneamente vero, quindi è un sistema. Ora, il primo già è risolto in forma esplicita, il secondo significa dire che x deve essere minore di 2 e il terzo significa dire che x è maggiore di 1 mezzo. Quindi possiamo andare a risolvere il sistema, qui ho lo 0, qui ho il 2, qui ho un mezzo. Il primo è vero, il secondo è vero per x minore di 2, quindi qui, poi escluso 2, il terzo deve essere maggiore di 1 mezzo. Quindi vediamo che le soluzioni vere, cioè contemporaneamente soddisfatte, sono quelle per cui x deve essere compreso strettamente tra un mezzo e due. Queste sono le condizioni di esistenza o di accettabilità del logaritmo. A questo punto possiamo passare alla fase esecutiva e quindi vediamo che qui c'è una somma e questa somma di fatto ci diventa un prodotto, quindi logaritmo in base 4, uso la parentesi quadra, x che moltiplica 2 meno x deve essere uguale, chiudo la quadra al logaritmo in base 4 di 2x meno 1. A questo punto abbiamo due logaritmi in base 4 e per forza di cose questo valore e questo valore devono essere gli stessi. Quindi l'argomento del logaritmo deve essere lo stesso, hanno la stessa base, quindi x che moltiplica 2 meno x deve essere uguale a 2x meno 1. Quindi 2x meno x quadro deve essere uguale a 2x meno 1, 2x e 2x se ne va, quindi x quadro è uguale a 1, da cui segue che x è uguale a più o meno 1, però sicuramente delle due soluzioni trovate meno 1 non è accettabile perché non si trova nel campo di esistenza e quindi l'unica soluzione, state attenti, è più 1. Grazie. 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 Il primo esercizio proviamo a risolvere una diseguazione questa volta, poi in base anche alle visualizzazioni, in base al vostro indice di gradimento, ai commenti capirò insomma se questo tipo di video vi possono interessare. Abbiamo il logaritmo in base 2 di x più il logaritmo in base 2 di 4 meno x e deve essere meno 1 uguale del logaritmo in base 1 mezzo di 3. Il primo passo è costituito sempre dalle condizioni di esistenza, x maggiore di 0, 4 meno x maggiore di 0, tutto a sistema, quindi qui deve essere che x è minore di 4 e praticamente tutto equivale a dire che x deve essere strettamente compresa tra 0 e 4. Il secondo step è quello di andare a risolvere il logaritmo. Possiamo sicuramente tra il primo e il secondo logaritmo del primo membro possiamo applicare la proprietà del prodotto, come visto anche nell'esercizio precedente, 4 meno x, cerco di risolverlo in meno passaggi possibili e qui sicuramente ci conviene fare un cambio base, per cui il logaritmo in base 1 mezzo di 3 equivale al logaritmo in base 2 di 3. Perché ho logaritmi con la stessa base e la base dei logaritmi è maggiore di 1, quindi si possono riscrivere gli argomenti senza cambiare il segno della disequazione, viceversa se fosse stata la base minore di 1 avrei dovuto cambiare il minore uguale con maggiore uguale. Quindi posso andare a scrivere senz'altro che x moltiplicato 4 meno x deve essere minore uguale di 3, quindi equivale a dire 4x meno x quadro minore uguale di 3, posso moltiplicare per meno 1 e ottengo x quadro meno 4x più 3, che deve essere maggiore uguale uguale di 0, posso applicare il trinomio caratteristico per cui vado, così cambiamo anche metodo ogni tanto, vado a vedere che i numeri il cui prodotto mi dà 3, quindi il prodotto deve essere questo, la somma deve essere questa. Allora sono meno 1 meno 3, perché meno 1 per meno 3 ottengo 3, meno 1 meno 3 ottengo meno 4, quindi equivale a scrivere x meno 1, x meno 3 maggiore uguale di 0. A questo punto, se passo all'equazione associata, ottengo i due valori x1 e x2, x1, x meno 1, x meno 3. Spero sia chiaro per tutti, quindi ottengo che x1 è uguale a 1, x2 è uguale a 3. Questa espressione qui è equivale all'espressione di una parabola, passante con delta maggiore di 0, passante per due punti 1 e 3. Voglio i valori positivi, quindi i valori esterni, e questo per risolvere questa disequazione equivale a dire che x deve essere minore o uguale di 1, vel x maggiore uguale, mi sposto un pochettino per essere sicuro che lo possiate vedere tutti, a 3. A questo punto lo devo confrontare con le condizioni di esistenza, siccome devono essere soddisfatte entrambe, posso sicuramente mettere al sistema 0 minore di x minore di 4 con x minore o uguale di 1, vel x maggiore o uguale di 3. Che sono le soluzioni trovate, confrontate con le condizioni di esistenza. A questo punto posso andare a usare il metodo che ho usato precedentemente, della realtà orientata, pongo i numeri 0 e 4, ho 1 e 3 qui, benissimo. Proviamo a usare pure qualche strumento così cerco di essere più preciso. Sempre a mano libera posso stufare, potevo anche diminuire lo spessore, però ormai è andata così, anzi diminuiamo lo spessore. Allora, la prima, cambiamo anche colore, è soddisfatta strettamente tra 0 e 4, la seconda minore o uguale di 1 e maggiore o uguale di 3. Fatemi riprendere la mano libera, qui assolutamente non vale, qui nemmeno, perché minore e strettamente, minore e strettamente, qui nemmeno, qui e qui sì. Quindi ci metto due bei puntini. Vado a vedere dove i risultati del sistema sono soddisfatti, quindi quando le soluzioni sono contemporaneamente vere, e ottengo che, cambiamo colore a questo punto, riomentiamo il tratto, ottengo che la soluzione dell'espressione logarittmica, quindi la diseguazione logarittmica precedente, è che x deve essere compreso tra 0 e 1, quindi 0 minore di x minore o uguale di 1, vel 3 minore o uguale di x minore di 4. Questa è la soluzione, andiamo a vedere qual era l'esercizio di partenza, forse da qui si vede, eccolo qua, e questo no, 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 mi sono sbagliato con quello precedente, posso andare a fare uno zoom un po' più grande, l'esercizio è questo, quindi logarittmo in base 2 di x più logarittmo in base 2 di 4 meno x minore o uguale di logarittmo in base 1 mezzo di 3, ricordatevi le condizioni di esistenza, ricordatevi qualche piccola proprietà, anche quella del cambio base del logarittmo, andiamo poi a confrontare le soluzioni trovate con le condizioni di esistenza, facciamo il sistema e troviamo le soluzioni. Benissimo, mi sono dimenticato di dirvelo, dico alla fine, se vi piace il video, se vi piace questo canale, potete iscrivervi per rimanere sempre aggiornati, e amo i vostri commenti, ringrazio tutti coloro insomma che seguono il canale e che partecipano in maniera attiva. Un caro saluto e buona giornata, Francesco Samani. Un caro saluto e buona giornata, Francesco Samani. Un caro saluto e buona giornata.